Mengo arriva un'altra vittoria, un'altra vittoria importante, fa classifica, ci tiene in betta alla Superlega, prestazione con qualche alto e basso forse, poi me lo direte, ma insomma siamo stati concreti quando contava. Sì, sapevamo che erano tre punti importanti soprattutto per noi, per la nostra classifica, era importante fare questi tre punti contro Taranto che veniva comunque da un ottimo momento, che ha vinto tante partite consecutive e sta facendo comunque punti importanti anche loro per la lotta a salvezza, insomma, che è il loro obiettivo. Noi, sì, siamo stati bravi a portare a casa il bottino, diciamo, intero alla fine, però non siamo stati cinici come al solito in alcune situazioni, soprattutto di palla facile, di palla scontata e penso che nei prossimi giorni dovremo lavorarci per arrivare a sabato contro Ravenna per far vedere che abbiamo lavorato su queste cose perché sono tre punti importanti anche quelli lì. Senti, passami la battuta, questi giovani centrali, sempre con qualche acciacco, il 36enne Mengozi invece, inossidabile. Sì, per adesso sì, insomma, abbiamo avuto tanti problemi da inizio stagione ad oggi, ma abbiamo dimostrato che il gruppo c'è, il gruppo è importante e da questi momenti di difficoltà ne siamo per ora sempre venuti fuori abbastanza bene, devo dire. Quindi aspettiamo i ragazzi perché è importantissimo che ci siano per il proseguo della nostra stagione perché sappiamo che la società, il presidente e tutti noi abbiamo obiettivi molto ambiziosi e abbiamo bisogno veramente di tutti. Un'ultima cosa, fra tre giorni si gioca ancora qua con Ravenna il più classico di testa-coda, la tua partita, insomma, se ce n'è una. Un'altra partita, per certi aspetti simile a questa, sarà importante affrontarla con concentrazione. Sì, sì, dobbiamo affrontarla, come hai detto te, con concentrati, un po' più sciolti rispetto a questa sera che in alcune situazioni, come ho detto prima, eravamo un po' tesi. Quindi viene Ravenna che ormai non ha niente da perdere, sì, è una partita che a me particolarmente piace molto, sono molto legato alla società e alla città, è inutile dire che Ravenna ce l'ha nel cuore, insomma. Quindi sono contento di poterla, di poterci essere, di poterla giocare. Grazie Mengo.